Ciao a tutti ragazzi qui Paul, anzi Paul non c'è oggi perché è partito già per le sue vacanze estive e oggi siamo in un nuovo video calcio mercato anche se mi vedete nella postazione game appunto quando giochiamo al computer però porteremo calcio mercato, non mi ricordo l'episodio qual'è per oggi parleremo principalmente del Milan e soprattutto di Auma Beian perché ieri sera, anzi ieri notte alle 2 è uscito una diretta di Piera Auma Beian su Instagram in cui dice a qualche tifoso personeto che l'ha invita ad andare a Milan voglio tornare a Milan, la società dorme, credo che è in un hotel però lui appunto ha espresso la volontà di tornare in rosso nero mentre la società non vuole lasciarlo così facilmente perché comunque un top player come Auma Beian tutti lo vorrebbero tenere e nessuno lo vorrebbe vendere l'unico problema per il Milan è l'ingaggio anzi non ve l'ho detto ecco il video di Auma Beian io voglio, loro stanno dormendo, che devo fare? il numero 7 dai torna al Milan vabbè vabbè eh chiede dai 13 milioni a stagione per il calciatore è una richiesta troppo elevata appunto per il Milan che ha detto che Massimo può offrire 8 milioni, 8-9 milioni perché comunque sarebbe il giocatore più pagato dalla Serie A e comunque si chiuderebbe intorno a una cifra all'affare di 80-90 milioni sono troppi per un attaccante, troppa la richiesta del club, sia del club che della gente perché il club chiede 80 milioni, la gente che è di 13 milioni al anno quindi sarebbe un totale una cifra di 250 milioni più o meno per prendere solo un giocatore poi bisogna vedere anche quanto è la durata del contratto però non si sa però comunque c'è anche la pista Kalinic che è sempre viva ha rifiutato anche l'Everton a Kalinic per andare al Milan però mai dire mai appunto con questa diretta può cambiare tutto per questo video è tutto chiediamo per questo video chiedo anzi Paul anche me l'ha riferito 15 like perché comunque aumentiamo un po' i like passate nei canali di Arby's Game, Beppe Cash, Superbruto e Watson TV quindi per questo video è tutto ciao a tutti ragazzi grazie